Ti sono mancata? Stanley, Gabriel. Il grande Stanley. Che eleganza. Grazie. L'abito fa il monaco a detta di qualcuno. Ci credi? Spero di no. Bevi. Ho fatto 3.000 chilometri per venire a questo incontro. Vai al solo? No. La verità è che tu hai fatto 3.000 chilometri per i soldi. Ma questo non importa. Erga, ti presento Stanley. Ciao, Stanley. Belga. Senti, io non ho tanta pazienza, Gabriel. Forse tu puoi darmi una mano, Stanley. Dagli un'occhiata. Che ne pensi? Sai che non posso toccarlo. Ti piace la tequila, Stanley? Basta con le cazzate. Senti, tu vuoi qualcosa da me e io qualcosa da te. Database difesa, cifratura 128 bit. Che ne dici? Impossibile? Niente, è impossibile. Bene, allora si può fare. Infiltrando un cavallo di troia con un warn. Qualcosa del genere. Cos'è? Un esame? Quasi. Marco? Diamo gli un incentivo. Ehi. Che vuoi fare? Alta a gitare, Stan. Dunque, mi hanno spiegato che... che ai migliori hackers del mondo corrono 60 minuti. Sfortunatamente, mi serve uno che ci riesca in 60 secondi. Scherzi. Temo di no. Vai. Alzati, levati, levati, levati. 55. Datti da fare. Che razza di storia è? Io non perderei tempo. Oh, Gesù. 45 secondi. Ci sa fare, Elga. Dio santo, dove sono finito? Serve più tempo, più tempo. Lavora, Stan. 20. 19. Quindici. Avanti. Apriti. 9. Forza, forza. 3. 3. 2. 1. Che peccato. Devi morire. No, no, aspetta, aspetta! Stavo solo giocando con te, Stan. Oh, bene. Il nostro vero, bene. Sì. Sì.